Il primo studio, tra l'altro con disegno prospettico, sull'efficacia del dispositivo FimoStop sia a breve che a lungo termine, è stato eseguito proprio qui, nella Fondazione Policlinico Tor Vergata. Sono stati arruolati 85 pazienti affetti da Fimosi di grado da lieve a moderato e con indicazione alla circoncisione. L'obiettivo prefissato dello studio era quello di evitare la circoncisione a un terzo dei pazienti arruolati. Questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto e superato dal momento che più della metà di loro sono riusciti ad evitare l'intervento di circoncisione dopo il trattamento con il dispositivo FimoStop. L'80% dei pazienti, cioè la maggioranza del campione arruolato, raccomanderebbe l'utilizzo del dispositivo FimoStop ad altri pazienti con FimoStop prima di considerare l'intervento chirurgico di circoncisione.